Ben ritrovati alle previsioni meteo di venerdì 14 aprile. Affoggia cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi durante la giornata. La temperatura massima registrata sarà di 16 gradi, la minima di 8. Calo dunque delle temperature. Allerta meteo con venti al mattino molto tesi. Per ora è tutto, buon proseguimento con i programmi della nostra rete.